In Svizzera, il riscaldamento climatico avanza a una velocità doppia rispetto alla media mondiale. Per questo motivo, AXA Svizzera desidera contribuire alla protezione del clima grazie alla sua strategia mirata e con l'aiuto della sua clientela. Ci adoperiamo per ridurre le emissioni di CO2 e per favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici. Per raggiungere questi obiettivi, siamo attivi su quattro livelli. In quanto assicurazione, vogliamo proporre più prodotti e servizi rispettosi del clima e a basso consumo di risorse. Grazie alle nostre competenze in gestione del rischio e prevenzione, possiamo tutelare meglio i nostri clienti dai rischi climatici. In quanto investitori, nelle nostre decisioni, teniamo conto dei criteri di sostenibilità e riduciamo il potenziale di riscaldamento globale degli investimenti. Puntiamo inoltre su immobili sostenibili e basse emissioni di CO2 future. In quanto azienda, riduciamo al massimo la nostra impronta di carbonio, così da raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni nette a livello aziendale entro il 2025. Optiamo inoltre per un'infrastruttura informatica efficiente in termini energetici. L'AXA Climate Academy sensibilizza i nostri collaboratori sui cambiamenti climatici e li spinge ad agire. In quanto grande impresa, AXA Svizzera è un tassello importante della società. Anche qui ci adoperiamo per la protezione del clima con i nostri partner. Per esempio, siamo membri della Fondazione Svizzera per il Clima, che sostiene economicamente le PMI svizzere e del Liechtenstein per permettere loro di sviluppare progetti innovativi a favore del clima. In questo modo, AXA aumenta anche la competitività delle PMI e della piazza economica elvetica. Ma il nostro impegno sociale non si ferma qui. Entro il 2025, il 150esimo anniversario di AXA Svizzera, regaleremo a tutti i nostri clienti un metro quadrato di biodiversità. Visti i nostri 1,9 milioni di clienti, ciò equivale a 266 campi di calcio di fauna e di flora in più. Il motivo? La biodiversità è fondamentale per il clima e quindi anche per noi esseri umani. O come dice il Purpose di AXA, consentire il progresso proteggendo quello che conta davvero. AXA 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 AXA